appassionati di schema un saluto da parte di siro palladino che vi dà il benvenuto di un nuovo appuntamento con la voce delle regioni tv dedicato alla puglia puglia che domenica scorsa ha vissuto dopo una lunga attesa il sospirato momento del ritorno alle gare con la prova interregionale di qualificazione cadetti e giovani e che si accinge a vivere un altro importante evento con la prova di qualificazione assoluti di questo e di altro parleremo in compagnia dei nostri ospiti che sono il presidente del comitato regionale federa scherma puglia roberto lippolis del responsabile per le relazioni storie del comitato fabrizio lavallese e con lo spagnista lorence ferandina che è stato uno dei vincitori della gara della scorsa settimana ben trovati grazie ciao grazie buon pomeriggio un saluto un ringraziamento come sempre a corrado giuseppe terranova che ci seguono alla regia e cominciamo con roberto lippolis roberto l'emozione è stata tanta dopo questa lunga attesa ma direi che il test è stato pienamente superato sia dal punto di vista logistico e sotto il profilo tecnico sul piano tecnico parleremo più avanti ma volevo sapere qual è la tua valutazione a riguardo anche per quanto concerne il rispetto delle misure anti covid beh sì il la prova è stata superata superata a pieno insomma e l'emozione è stata tanta soprattutto risentire l'inno dopo 15 mesi di stop è stata veramente una bella una bella sensazione rivedere poi i ragazzi rivedere tanti amici eh colleghi dirigenti insomma è stata molto molto bella eh venendo alla tua domanda il diciamo il il protocollo è stato rispettato pedisseguamente anche grazie insomma alla al contributo di del direttore di torneo covid è stato insomma possibile appunto eh rispettare in ogni in ogni dettaglio il il protocollo ehm peraltro insomma abbiamo anche previsto un servizio di tamponi che ha avuto un suo riscontro tamponi effettuati in in loco ha avuto un suo riscontro molto positivo e quindi insomma la 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 prova è è superata pienamente bene con soddisfazione direi e adesso vorrei soffermarmi con te su una disamina tecnica dei risultati delle gare interregionali cadetti e giovani 11 su 12 tra l'altro hanno fatto registrare successi pugliesi diciamo che la sciabola si conferma lo zoccolo duro dell'eccellenza la spada riafferma la sua costante crescita forse sui numeri del fioretto c'è ancora da lavorare un po sei d'accordo con questa analisi assolutamente d'accordo eh purtroppo il il fioretto è ancora una nota d'ola in simpuglia eh ma non solo a quanto pare eh quindi insomma speriamo che le le società votate all'insegnamento del fioretto con la ripresa abbiano la possibilità di incrementare innanzitutto i numeri e di conseguenza insomma anche la partecipazione degli atleti agonisti alle alle competizioni eh per quanto riguarda le altre armi insomma eh chiaro che si consolida un una ripartizione del del territorio nelle due macro aree del della capitanata con con trani eh per quanto riguarda la sciabola e della di di Bari Brindisi Taranto e Lecce con con la spada insomma hanno garantito una partecipazione eh molto importante è chiaro che sono categorie molto delicate quelle dei cadetti giovani come sappiamo tutti dove il fenomeno dell'abbandono è sempre più evidente poi figuriamoci dopo una un periodo del genere insomma è già è già stato un successo riuscire a completare comunque tutte le gare o quasi anche se in realtà eh ci sono state proprio delle categorie completamente scoperte per il fioretto femminile nei cadetti eh con una sola una sola atleta iscritta. Sostanzialmente sul piano dei numeri sei soddisfatto ed eventualmente come pensi che in futuro si possa eh recuperare chi purtroppo come dicevi tu è stato perso per strada anche a causa della pandemia? Ma io ritengo che quello sta molto alle alle società le politiche che adottano nel 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 reclutamento degli atleti e nel recupero anche di chi si è perso per strada eh sappiamo tutti che la la Puglia è un territorio molto difficile che è possibile in qualche maniera coltivare eh diciamo degli atleti di buon livello e diciamo tra virgolette in età avanzata quindi parliamo di degli under 20 degli under 17 nelle zone in cui ovviamente è prevista la possibilità per gli stessi di di poter studiare è chiaro che a Lecce come a Taranto Bari è un po' più semplice tra virgolette avere queste la copertura di queste categorie rispetto mi viene in mente una una Sansevero che non è una sede universitaria e quindi diventa un po' più difficile appunto evitare questo fenomeno del dell'abbandono del degli atleti in particolare in quelle categorie. Nel prossimo fine settimana che sarà il primo fine settimana di maggio in programma sempre al Palamartino di Bari la prova di qualificazione assoluti ce la vuoi presentare per grandi linee? Beh è una prova che si è svolta già nelle passate stagioni con una suddivisione generalmente tra la spada e le altre armi ehm questa volta abbiamo avuto l'opportunità di contenere tutte nello stesso weekend le gare e speriamo in una buona partecipazione come quella che c'è stata prospettata dalle società che sono state interpellate nella fase preliminare alla definizione del calendario e sembra che insomma i numeri possano tranquillamente sostenere la gara stessa. Ovviamente insomma quella che sarà la gara più più corposa sarà quella della spada in particolare della spada maschile eh visto che sicuramente la la specialità più praticata ehm seguire sicuramente la spada femminile anch'essa con buoni buoni riscontri e poi insomma tutte le altre in particolar modo la sciavola maschile anche anche esse insomma ehm con un discreto numero di partecipanti e comunque sappiamo con un validissimo e alto tasso tecnico qual è quello appunto della sciavola maschile pugliese. E poi ci saranno i due appuntamenti con l'under 14 a metà maggio e la prima settimana di giugno. Lì eh naturalmente bisognerà anche avere contezza di quelli che saranno i numeri perché il settore del Gran Premio giovanissimi avendo appunto eh ragazzi eh sotto i quattordici anni è quello che da un certo punto di vista rappresenta la maggiore incognita sul piano numerico. Hai già avuto modo di avere dei riscontri in questo senso? Eh riscontri particolari no. Però insomma visto l'interessamento da parte delle società sulla definizione degli orari di gara e sulle informazioni eh di tipo logistico a quanto pare insomma la partecipazione dovrebbe esserci. Non abbiamo ancora contezza di quelli che saranno poi i numeri definitivi però a quanto pare insomma le le sale si sono si sono attrezzate per per nell'organizzare le trasferme la trasferta e speriamo insomma appunto che anche in questo caso non ci siano troppe defiance eh soprattutto trattandosi di categorie molto delicate insomma da questo punto di vista speriamo che con l'esperienza di queste due due prove ehm si crea anche il convincimento da parte dei genitori forse quelli un po' più resti a mandare i propri figli eh in un luogo in un luogo di gara e mh in questo insomma sono sono molto fiducioso e sono anche fiducioso del fatto che comunque i ragazzi i bambini eh non vedono l'ora di 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 partecipare a le gare di riprendere di di ritrovarsi tra loro con gli amici anche delle altre sale di scherma. E sicuramente sarà così quindi guardiamo con fiducia a questi prossimi appuntamenti. Lo spadista del club Scherma Bari Lawrence Ferrandino è stato uno dei grandi protagonisti della gara dello scorso weekend sabato secondo posto nella categoria giovani domenica vincitore fra i cadetti. Lawrence vogliamo ripercorrere assieme le tappe di questo fine settimana per te sicuramente molto positivo? Sì guarda allora certamente sono stati due giornate molto importanti eh come ha detto Roberto siamo tornati dopo tantissimo tempo che stavamo tutti sperando in un ritorno e come appunto ho detto proprio sentire l'inno mettersi in posizione davanti alla bandiera è stata un'emozione che mi ha fatto un po' commuovermi. E poi comunque riprovare l'adrenalina che c'è stata il primo giorno che comunque ehm ha influenzato quella che è stata la mia prestazione nonostante ciò comunque sono ho affrontato abbastanza bene l'intera gara sono uscito vittorioso dai gironi in prima posizione e poi ho affrontato positivamente tutte le dirette per poi giungere alla finale che è stata appunto molto dura in quanto avversari di un certo calibro come per esempio appunto Rodia che hanno comunque un'esperienza superiore alla mia eh ho provato a fare diciamo le delle mie possibilità quello che potevo e sono abbastanza soddisfatto del risultato comunque e quindi proprio per questo motivo poi anche il secondo giorno ho tornato a fare l'altra gara che ho vinto sempre a questa spinta questa voglia di poter gareggiare ancora una volta Nel primo fine settimana di maggio come abbiamo detto tornerà in pedale con la prova di qualificazione agli assoluti qual è la tua ambizione per la prossima gara? Senti allora vabbè l'ambizione è quella sicuramente di fare il mio massimo anche se sono più grandi questo per me è uno stimolo a riuscire a magari battere anche persone che sono più esperte più capaci anche fisicamente di me e magari riuscire a ottenere un risultato per me sarebbe bellissimo in ogni caso diciamo spero di rincontrare Rodia comunque magari per poterlo affrontare nuovamente e in ogni caso sicuro che darò il massimo senza problemi Al club Schermabari puoi giovarti dei consigli di un grande maestro come Andres Carriio se potessi rubargli qualcosa dal punto di vista tecnico che cosa vorresti prendere da lui? Allora Andres Carriio come hai detto è un grande maestro mi ha cercato in questi anni di insegnarmi tutto quello che poteva nel bene e nel male che io da atleta ho cercato di prendere tutto quello che potevo sicuramente magari la sua tenacia nell'insegnarmi magari poterla applicare negli assalti a tenere duro ma sicuro io credo che una cosa che ci accomuna sicuramente è la passione per questo bellissimo sport che infatti sin da subito ci ha messo in una grande empatia Tu sei nato a gennaio del 2005 quindi hai compiuto da qualche mese 16 anni sei giovanissimo promettente Qual è il tuo sogno nel cassetto? Grazie Allora il mio sogno vediamo per ora ne ho uno abbastanza ambizioso cioè quello di riuscire ai campionati nazionali di raggiungere il podio quelli della mia categoria che comunque è un risultato abbastanza ambizioso a cui però mi sto allenando da parecchi anni e spero che comunque i miei sforzi in concomitanza con quelli scolastici che appunto cerco di mantenere fissi mi permettano di raggiungere proprio il mio obiettivo e quindi magari sperare in una bella coppa con su scritto magari podio nella gara nazionale Bene, facciamo il tifo per te e incrociamo le dita affinché questo tuo sogno possa avverarsi quanto prima Fabrizio Ravallese una bella novità che ha reso più agevole anche il compito degli addetti ai lavori è rappresentata dalla partnership con il portale 4Fans che ha fornito tutti gli aggiornamenti sulle gare in tempo reale ci sono altre iniziative per rendere lo spettacolo della scherma sempre più fruibile sempre più a portata di mano soprattutto in un momento come quello attuale in cui il rispetto delle distanze è importante non solo per modo di dire? Sì, allora innanzitutto c'è da fare una premessa la scherma è uno sport uguale a tanti altri non deve essere da meno rispetto a sport che magari consideriamo più importanti non deve essere così e l'idea di una piattaforma come 4Fans deve essere la normalità anche per la scherma nel senso che anche questo sport deve avere il diritto di avere dei risultati in diretta di vedere appunto come stanno andando l'andamento delle gare in tempo reale perché è quello che chiede adesso internet è quello che chiedono adesso i giovani è quello che chiedono adesso un po' le persone noi abbiamo cercato in queste prove dello Scott Hand anche di portare un po' la scherma sui social abbiamo provato a mandare in onda le dirette delle finali di tutte le competizioni e abbiamo avuto anche parecchio successo questo sia per dimostrare appunto che la scherma non è uno sport inferiore ad altri sia per rassicurare magari anche i genitori dei ragazzi che non hanno potuto partecipare che tutte le gare sono state svolte nella massima sicurezza rispetto ai protocolli e poi cercando anche di avvicinare tantissimi ragazzi che magari hanno il sogno di praticare questo sport con i social, con le dirette che abbiamo realizzato con gli album fotografici ecco, la speranza è che possano avvicinarsi possano apprezzare la scherma e possano magari imparare qualcosa i social in questo momento sono un po' nell'occhio del ciclone per l'uso e soprattutto per l'abuso che qualcuno a volte ne fa ma adesso hanno un formidabile veicolo di comunicazione se usati ovviamente correttamente quale ritieni Fabrizio che si ha la capacità di penetrazione del web da parte della scherma pugliese e come credi la si possa ulteriormente favorire? Allora, i social secondo me sono importanti anche e soprattutto per la scherma abbiamo capito che soprattutto quest'anno, nell'anno della pandemia i ragazzi hanno bisogno di contenuti veloci e soprattutto in tempo reale l'abbiamo capito anche da sport come il calcio i ragazzi non seguono più tutte le partite ma seguono soltanto gli highlights i ragazzi hanno bisogno di contenuti rapidi veloci e in diretta ecco perché noi abbiamo spinto per portare sulla pagina social della federazione Scherma Puglia almeno le finali delle competizioni come ho detto prima questo può essere considerato una bella mossa sia per fare in modo che anche i genitori che non potevano assistere alle gare riuscissero comunque a vedere i loro figli o attraverso i video o attraverso le foto poi può essere anche utile per molti atleti oltre che per i ragazzini per avvicinare magari altri ragazzi all'arte della scherma può essere anche molto importante per molti atleti io se fossi un avversario di Lorenz mi andrei a vedere la sua finale magari per rubargli qualche che ne so qualche tecnica e poi usare la contro in gara e viceversa in termini di riscontri di contatti avete avuto una risposta positiva? Sì la pagina della la nostra pagina è cresciuta molto in questi giorni ha avuto tanti consensi e anche i video i video delle finali hanno ricevuto molti molti consensi siamo riusciti a raggiungere parecchie persone che non potevano assistere lì al Palamartino alle gare quindi siamo molto soddisfatti ovviamente la macchina può essere migliorata si può fare molto di più però come inizio posso essere molto soddisfatto intanto dalla regia stanno mandando in onda alcune immagini della gara dello scorso fine settimana al Palamartino volevo chiederti un'altra cosa Fabrizio cosa pensi della proposta di una netiquette per i profili social dei tesserati a beneficio dei profani di internet dove ci siamo che si tratta di una sorta di codice etico nell'utilizzo del web volto a favorire il rispetto reciproco fra gli utenti può essere secondo te una soluzione per sempre a ritorni a volte un po' troppo aspri che si regissano attorno agli eventi sportivi in genere? assolutamente parliamo comunque di uno strumento che viene realizzato è stato pensato e realizzato per creare delle community di persone educate in caso di bullismo digitale magari è determinante bloccare determinati profili che non rispettano le regole segnalate dalle piattaforme e dai gruppi e dai profili social per quanto riguarda noi e la gestione della nostra pagina social ogni atto discriminatorio ovviamente verrà messo alla porta deve essere una competizione sana anche fuori dalle pedane e quindi soprattutto nei social e sulla nostra pagina benissimo io vorrei concludere questa carrellata tornando da Roberto Lippolis Roberto era importante ripartire lo si è fatto nel migliore dei modi come abbiamo detto d'ora in poi si guarda avanti e con quali speranze si può guardare al futuro della scherma pugliese? Le speranze sono tantissime sono quelle di riprendere quanto prima quella tanto auspicata la normalità la normalità di poter accedere tranquillamente in sala di potersi allenare senza troppe restrizione di abbracciarsi di stringersi la mano di festeggiare anche festeggiare le vittorie ho sempre avuto quando ho seguito il club schermo a Bari l'abitudine di obbligare i ragazzi a portare un pezzo di focaccia in palestra proprio per festeggiare purtroppo al momento non è consentito e quindi diciamo sono queste piccole cose che poi alla fine fanno squadra fanno club e sono sicuro che non sono soltanto abitudini che possono riguardare il club schermo a Bari ma sono convinto che riguardano tutte le società schermistiche di tutta Italia e quindi appunto sono queste le speranze le speranze poi sarà quella di assistere a un ottimo Olimpiade di avere buoni risultati dall'Olimpiade perché sappiamo tutti che poi l'Olimpiade è la vetrina per eccellenza della scherma alla quale assistono molti ragazzi io stesso ho iniziato scherma dopo aver visto Aldo Montano vincere l'Olimpiade e questo peraltro consentirà appunto alle società sicuramente anche di ritornare sulla strada che era stata già precedentemente segnata da questo momento e recuperare magari anche forze che si sono appunto disperse talvolta mettendo anche al rischio l'esistenza stessa di alcuni sodarizi quindi questa è insomma la speranza che rivolgo innanzitutto agli atleti ai ragazzi di continuare a lavorare con i propri obiettivi cercare di portarli a termine cercare di migliorarli sempre più e al contempo appunto cercare anche da parte delle società il più ampio e possibile sostegno in quelle che sono le organizzazioni in questo momento del comitato regionale visto che appunto l'organizzazione è demandata tutta il comitato regionale e le società si si devono rendere partecipi e responsabili di quello che stiamo facendo in questo in questo periodo è molto importante che tutti quanti rispettino il protocollo che si anche talvolta adattino a delle regole che purtroppo sono anche improvvisamente comunicate come talvolta capita ma proprio per adattarsi ad un periodo imprevisto e quindi appunto questo spero che sia l'ambizione l'ambizione futura Bene direi che con questi auspici possiamo concludere il nostro appuntamento con la voce delle regioni tv Io ringrazio i nostri ospiti Roberto Lippolis Lorenz Ferrandina e Fabrizio Ravallese per la loro disponibilità Un grazie va ovviamente anche a Corrado e Giuseppe Teranova per la loro incommiabile opera di raccordo e a quanti di voi che hanno seguito attraverso i canali social di Federa Scherma Siro Palladino vi ringrazio per l'attenzione e buona scherma a tutti Grazie Grazie